Appena possibile poverai giù in studio, appena sarà possibile, comunque guarda di bene la sigla e vedrai il perché, capirai il perché. Non mancherò, grazie, grazie, grazie a tutti, ciao, ciao. Ringrazierei Silvi Lubamba, tutte le ragazze. Io ringrazio Fabrizio Ducci, grazie ancora. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana, noi saremo qui alle 20 e 30, insieme qui su Gold TV, su Sky, Roma Stato 851, sul digitale terrestre da ottobre e sul sito di Gold TV, il streaming. Quindi ecco, ci abbiamo un po' tutta quanta alla copertura. Arrivederci, alla prossima settimana, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!